Budapest Ho un bel ricordo di Budapest 2015 quando vincemo la gara dopo una partenza fantastica non vedo ora di tornarci e di provare a ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso penso sia un bel posto è pieno di fan molti dei quali parlano il tedesco perché vengono dall'Austria e della Germania ma anche di ungheresi entusiasti di ospitare la Formula 1 nella loro città direi che Budapest ama la Formula 1 perché di solito domenica arriva molta gente in generale ho ricordi davvero belli di Budapest il tracciato è molto corto spesso viene chiamato la monaco dei circuiti mancano i muri ma ci sono molte curve un lungo rettilineo, quello principale e a seguire diverse curve che non ti lasciano molto tempo tra l'una e l'altra di solito fa molto caldo e l'asfalto è irregolare cosa che rende il tutto abbastanza difficile fisicamente per noi piloti è una grande sfida ma nel complesso è un posto dove amiamo correre e l'asfalto è una grande sfida grazie grazie grazie